Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di collezionismo con la serie dei rari e introvabili. Dopo la Wii e il Gamecube, questa volta è il turno di una portatile della grande N, ovvero il DS. Ho scelto questa console perché ad oggi non è comune come un 3DS, ma i suoi giochi sono decisamente più semplici da reperire di quelli del GBA. Insomma, siamo in una situazione dove collezionare per DS è ancora fattibile, ma come andremo a vedere alcuni prezzi stanno schizzando alle stelle. Prima di iniziare vi invito a farmi sapere nei commenti se questo format vi piace e quali altre console vorreste vedere essere prese in considerazione. Se già avete messo like, attivato la campanella delle porotifiche e mi seguite su tutti gli altri social, direi che siete pronti per scoprire se avete in collezione qualche pezzo raro e introvabile per Nintendo DS. Iniziamo! Ovviamente Poracci vale sempre lo stesso discorso, nello stilare questo listone prenderemo in considerazione il mercato europeo e se possibile al Pal Eita Triangolo Blu, ovvero le versioni dei giochi che non solo presentano il software in italiano, ma anche le scritte su box e manuali nella nostra lingua. Bene, con cosa iniziamo? Vanno onorate le tradizioni ed è giusto partire con una bella rarità a tema Fire Emblem, una serie che, come già abbiamo visto, tende ad acquisire valore in ogni sua incarnazione e su DS non fa di certa eccezione. Shadow Dragon è infatti l'unico titolo della serie apparso su DS ad essere uscito fuori dal Giappone. Si tratta di un remake del primo episodio per Famicom uscito nel 1990 e che recentemente è stato pubblicato sull'eShop di Nintendo. Il gioco, nonostante presenti parecchi miglioramenti rispetto all'originale, tra cui il triangolo delle armi, la possibilità di cambiare classe alle unità e anche, per la prima volta nella serie, delle funzionalità per il multiplayer online, non fu di certo un campione di vendite. Nel corso degli anni è divenuto un titolo ricercato tra i collezionisti e ad oggi una copia tenuta in buono stato e completa di tutto può raggiungere quotazioni intorno agli 80€. Altro giro, altro Dragon. Rimanendo sempre nel genere dei JRPG, un'altra serie che è molto famosa in Giappone ma che ha trovato sempre difficoltà ad attecchire in Europa è quella di Dragon Quest. Per DS ne sono usciti ben 4 capitoli. I primi 3 sono remake del quarto, quinto e sesto episodio della saga mentre l'ultimo, sviluppato da Level 5, è Dragon Quest 9, titolo pensato appositamente per il DS. Tutti e quattro i giochi, localizzati interamente in italiano e quindi disponibili nella versione triangolo blu, hanno ricevuto una distribuzione estremamente limitata e sono spariti immediatamente da negozi appena pubblicati. Non c'è un episodio più raro dell'altro per ora si trovano tutti nella stessa fascia di prezzo. Esclusi colpi di fortuna, aspettatevi di spendere tra i 50 e i 70€ per una copia ben tenuta di un Dragon Quest per DS e se poi cercate dei sealed, beh, i prezzi schizzano alle stelle. I giochi dei Pokémon tendono bene o male tutti quanti a diventare dei pezzi da collezione. Il Nintendo DS ha ospitato una buona varietà di titoli incentrati sull'universo dei mostri tascabili e in questa lista mi sembra doveroso citarne due. Il primo è composto dal duo di remake di seconda generazione. Pokémon versione argento Soul Silver e versione oro Heart Gold vengono ricordati come due remake di ottima fattura. Questa rivisitazione della seconda generazione, pensata per festeggiare i dieci anni dall'uscita dei titoli originali, presentava numerosi miglioramenti rispetto al passato e in più poteva essere acquistata in una speciale confezione da collezione che includeva, oltre a una delle due versioni del gioco, anche il Poké Walker, un contapassi a forma di sfera Poké. Questa consentiva di depositare Pokémon al suo interno per farli aumentare di livello e permetteva di catturare anche dei Pokémon accessibili solo tramite la periferica. Un'aggiunta molto particolare che, come è facile immaginare, fa lievitare di parecchio il prezzo del gioco base. Oggi trovare uno dei due titoli completo di tutto, anche Poké Walker, non è certo un'impresa semplice e vi verrà a costare intorno ai 120€. La seconda rarità a tema Pokémon che c'è bisogno assolutamente di citare è Pokémon Conquest, particolare spin-off che era un crossover con una serie estremamente popolare in Giappone ma sostanzialmente sconosciuta da noi, Nobunaga no Yabo. A differenza del classico gameplay della serie, Pokémon Conquest è un GRPG tattico a turni che vede l'universo narrativo dei mostri tascabili fondersi con avvenimenti e figure storiche proprie della cultura giapponese. Il titolo è molto più di nicchia di un gioco Pokémon a tutti gli effetti e fu per questo, probabilmente, che Nintendo decise di localizzarlo esclusivamente in inglese, distribuendolo in una tiratura limitata. Il risultato è che oggi Pokémon Conquest è un titolo raro e ricercato e il suo prezzo si aggira sempre intorno ai 100 euro. Un'altra serie molto popolare che tende a diventare rara in ogni sua incarnazione è quella di Castlevania. Su DS si sono visti tre episodi principali, Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin e Order of Ecclesia. Sia chiaro, nessuno dei tre si può definire comune o di facile reperibilità. L'episodio finale, però, Order of Ecclesia, sembra nettamente più quotato tra i collezionisti e una copia usata in buono stato viene venduta a partire da 80 euro circa. Attenzione, perché non esiste il triangolo blu, ma un triangolo tra il rosa e il viola che riporta le scritte sia in francese che in italiano. Ah, come se non bastasse, è anche il titolo più difficile del trittico, quindi, anche da giocare, non è di certo una passeggiata. Continuiamo con i JRPG, genere che abbiamo capito non riceve mai la giusta distribuzione in occidente. Anche a Chrono Trigger, uno dei capisaldi del gioco di ruolo alla giapponese, è toccato il triste destino di un'uscita in sordina che l'ha portato a diventare uno dei titoli più ricercati per Nintendo DS. Se si apprezza il genere, non si può non aver giocato a uno dei più grandi capolavori della Squaresoft dei tempi d'oro. Quello per DS è il secondo remake del gioco, apparso prima su Super Nintendo e poi su PlayStation. E in quanto tale, è una sorta di versione definitiva dell'esperienza Chrono Trigger. Ci sono tantissime aggiunte feature pensate appositamente per le caratteristiche del DS. Peccato che il gioco sia a dir poco raro. Se volete a tutti i costi una copia pallita, triangolo blu, siate pronti a tirare fuori non meno di 120-140 euro. Vi vorrei dire che un titolo del genere rivale, ma la spesa inizia ad essere a dir poco importante. Ultimo JRPG e poi la smetto, lo giuro. Sui Coden rappresenta una delle grandi ossessioni dei collezionisti per la prima PlayStation. E anche su DS non è di certo da meno. Con Tier Crisis non abbiamo un episodio della saga principale, ma uno spin-off che si appoggia sulla presenza dei numerosi mondi esistenti all'interno del metaverso della saga. Il gioco è un classico JRPG che alterna l'esplorazione di un ambiente tridimensionale a dei combattimenti a turni e sfrutta in modo consistente la presenza del doppio schermo per organizzare al meglio le informazioni vitali da tenere sempre sott'occhio. Curiosi di provarlo? Beh, usato, ben tenuto, si vende intorno ai 70 euro, mentre una copia sealed può raggiungere quotazioni vicine ai 200. Passiamo ora a delle icone Nintendo molto più conosciute. Kirby, tra episodi principali e spin-off di vario tipo, è apparso su vari titoli per Nintendo DS. Tra tutti però ce n'è uno che compare raramente sui siti di vendita e quando lo fa viene piazzato a prezzi piuttosto alti. Sto parlando di Kirby Superstar Ultra, remake di Kirby Superstar apparso sul NES nel 1996 o come era conosciuto da noi europei Kirby's Fan Pack. Si tratta di un rifacimento pensato per celebrare i 15 anni della serie e la versione Ultra riprende in toto la struttura dell'originale espandendone ancora di più i contenuti. Agli otto giochi principali inclusi in questa sorta di collection a tema platform si aggiungono altre quattro modalità e tre nuovi minigiochi oltre ovviamente a numerose migliorie grafiche e feature come il multiplayer wireless. Superstar Ultra è molto raro se ne trovano poche copie in Italia per questo appena ne spunta una copia in vendita questa va via a prezzi elevati intorno ai 100 euro. Prima del gran finale ecco uno dei titoli che sono più orgoglioso di avere in collezione. Non si tratta di un episodio di The Legend of Zelda ma di uno spin-off che vede come protagonista Tingle. Se avete giocato un minimo alla serie di The Legend of Zelda saprete quanto fuori di testa è il personaggio di Tingle. Il primo gioco che lo ha visto come protagonista non è da meno ed è sostanzialmente un adventure dove l'obiettivo principale è quello di collezionare quante più ropie possibili per costruire una torre. Freshly Picked Tingle's Rosy's Rupiland un titolo semplice e immediato è un gioco così strampalato da essere stato chiaramente pensato per il pubblico giapponese tanto che il suo seguito non uscì mai dai confini nipponici. Difficile dire come mai Nintendo decise di adattare solo per il mercato europeo questo gioco ma per una volta ci è andata bene. Il titolo è PAL multilingua col triangolo marrone e stranamente se ne vedono più copie nuove che usate. Il prezzo si aggira sempre intorno agli 80 euro voi lo conoscevate? e in chiusura un'altra esclusiva per il mercato europeo sto parlando di The Legend of Zelda Spirit Trucks ma non ovviamente del gioco base ma di una bellissima Collector's Edition. Allora questo oggetto è così raro che è difficile trovare informazioni precise a riguardo si dovrebbe trattare di un bonus che veniva dato nel Regno Unito se si preordinava il gioco in alcune catene di videogiochi ma ho trovato qualche testimonianza che parla anche di una versione olandese quindi ne potrebbero esistere più varianti di quanto si crede. In ogni caso è una di quelle edizioni più impressionante nel packaging che nel contenuto in sé. Il box di latte è bello grosso e imponente ma al suo interno troviamo soltanto il gioco e un altro vano contenente due piccole action figure. Non c'è nient'altro degno di nota se non un piccolo foglietto illustrativo che mostra come montare le action figure sul loro piedistallo. Questo però non ha impedito alla Collector di diventare uno degli oggetti più ricercati in assoluto a tema Zelda nonché una delle edizioni più rare per DS ad oggi ce n'è solo una disponibile su ebay e il prezzo non è di certo poraccio. Voi la comprereste? E questo poracci era tutto per oggi fatemi sapere nei commenti se avete uno di questi giochi o se c'è qualche titolo della vostra collezione DS di cui andate particolarmente fieri. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo al video e per supportarmi sempre qui su YouTube ma anche su tutti gli altri social. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il poro DS Michele Erraro ciao! Bentornati sul mio!